Jessica nella casa del GFV ha dichiarato che in realtà zii, fratelli, cugini e molte persone della loro famiglia hanno subito violenze e carcere perché facevano parte della famiglia imperiale. Il padre della famiglia Selassie invece è riuscito a scappare in Italia aiutato da una persona. Scappato dall'Etiopia ha cambiato il cognome per vivere un periodo in incognito per salvarsi la vita, da qui il nome di Giulio. Successivamente va a Londra e riesce a recuperare le sue documentazioni e il rapporto con i membri della sua famiglia con cui le sorelle Selassie hanno ottimi rapporti. La storia del giardiniere è questa. Il giardiniere è colui che ha salvato suo padre portandolo in Italia. La famiglia ha anche rilasciato una dichiarazione in cui dicono che ci sono documenti ufficiali per dimostrarlo e saranno presentati nelle sedi appropriate. Definiamo la nostra famiglia più unita che mai. Jessica Selassie, Lullu Selassie e Clarissa Selassie sono state informate nella casa dei VIP del GF dove stanno gareggiando sullo stato carcerario del padre. Le ragazze hanno reagito con molta calma poiché già sapevano della situazione che andava avanti dalla primavera.